Il cuore e la vitamina C Il cuore e la vitamina C è davvero un binomio interessante. La vitamina C, nota come anche acido ascorbico, ha un potere eccezionale su tutto il nostro corpo, ma soprattutto sull'apparato cardiovascolare e vi farò capire dove esattamente, perché il punto cruciale è questo. Allora, innanzitutto, vitamina C vuol dire che è una molecola che è necessaria per la nostra vita, perché le vitamine, come tutte le vitamine, sono definite tali perché in carenza di una o di alcune vitamine si producono delle malattie, si generano delle malattie. Per quanto riguarda la vitamina C, la carenza o l'assenza di vitamina C produce una malattia che si chiama scorbuto, una malattia terribile, effettivamente, che attualmente non è più assolutamente neppure concepibile, che colpiva, dicevo, i marinai soprattutto, e si è scoperta proprio in quelle circostanze, perché stando molto tempo nei mari, avevano pochissime occasioni di mangiare verdura e frutta. Guardate, ancora una volta questa verdura e frutta sicuramente ha un ruolo determinante per la nostra vita. Vediamo un po' se la cosa può farci riflettere. La vitamina C, infatti, è contenuta soprattutto o solo, quasi unicamente, nella frutta, verdura, ortaggi e nei cereali, anche integrali, eccetera, senza dubbio. Per cui i marinai che stavano in mare per lungo tempo, non avendo appunto la possibilità, andavano incontro a questa malattia. Siccome la vitamina C è strettamente correlata alla genesi di una proteina più importante del nostro corpo, che è il collagene, che è la forma strutturale di tutti gli organi, delle ossa, dei denti, dei cartilagini, delle pareti delle arterie, ecco che arriviamo al punto, la carenza di vitamina C produce un'alterazione strutturale del collagene. Non è che non si formi più, ma si forma in una forma molto debole. Ed ecco perché il collagene che costituisce la parete in parte delle capillari e delle arterie è comunque deficitario sotto molti aspetti appunto strutturali, per cui si rompe facilmente. La vitamina C quindi deve essere assunta quotidianamente nella nostra alimentazione e se facciamo un'alimentazione completa dove la verdura, l'insalata, la frutta e gli ortaggi sono al primo posto e non come contorni, secondo studi ci sono vari pareri contrastanti. Vitamina C sì, vitamina C no. Il polling vinse il premio Nobel riguardo agli studi sulla vitamina C ma anche su altre cose e scoprendo che la vitamina C aveva un ruolo determinante nell'aumentare le difese immunitarie, ridurre la probabilità di molte malattie tra le quali le cardiovascolari, ridurre la probabilità di neoplasie, ma siccome la vitamina C è considerata una molecola poco business, di pochissimo valore, gli studi sono stati abbandonati ma questo non comporta il fatto che il valore inestimabile della vitamina C sia per fortuna stato riscoperto successivamente e ancora oggi se ne ritiene una funzionalità e una validità eccezionale. Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare la vitamina C guarda caso è uno dei più potenti antiossidanti che noi conosciamo e quindi voi sapete bene che l'apparato cardiovascolare risente in modo esagerato dello stress ossidativo per cui tutto ciò che è antiossidante quando le nostre difese potere antiossidante è ridotto ben venga ed è un tocca sana per cui la vitamina C è un tocca sano appunto per quanto riguarda la parete interna delle nostre arterie che ormai dovremmo conoscere come termine che si chiama endotelio. La quantità che dobbiamo assumere per quanto riguarda la protezione cardiovascolare oscilla intorno ai 2 grammi dagli 1 ai 2 grammi. Lo so, ci sono studi contrastanti sì, no, se 100, 200 io ho fatto più o meno una media e vi garantisco che una quantità dall'1 ai 2 grammi al giorno sono ben tollerate anche perché la vitamina C è idrosolubile quindi un eccesso viene tranquillamente eliminato per via plin plin come dicono in alcuni spot delle acque minerali di cui farò un video perché è interessante, ecco questo. Assumetela tutti i giorni quindi attraverso la normale alimentazione ma qualora non fosse possibile assumetela con un integratore 1-2 grammi sono la quantità assolutamente che io consiglio vivamente ovviamente avvaletevi sempre del parere di un medico o di un nutrizionista in gamba che possa darvi qualche consiglio vitamina C e cuore ebbene sì, binomio vincente e ci sentiamo presto.